Partenza, Bruco, Drago, Torre, Aquila, Pantera, Onda, con Bruco che va in prima posizione al primo San Martino, Brio fa scorrere il cavallo davanti al Palazzo Pubblico, in seconda posizione la Pantera, Bruco, Pantera al Casato ed ecco che riprendono e abbassano la velocità, terza posizione per Loca, Istice, Aquila, Onda, Drago e gli altri che stanno andando con andature molto contenute. Andiamo al secondo San Martino con la Pantera che sta una sola, c'è un allungo da parte dell'Onda, Oca, Pantera, Oca, Onda, Istice, Bruco, si conclude così il secondo giro, sempre la Pantera in prima posizione seguito dall'Onda, dall'Oca, l'Istice e gli altri che hanno quasi fermato. Andiamo all'ultimo San Martino con Pantera e Onda, vediamo Porto Alabe che fa una volata davanti al Palazzo Pubblico e fa il suo ingresso al Casato, Porto Alabe, il cavallo dell'Onda e l'Onda conclude con la vittoria, la seconda posizione per la Pantera, terza Istice e Oca.